Sempre 15 gennaio, è mezzogiorno e 20, i carabinieri se ne sono andati e questo è quello che prima ho provato da dire, una situazione che ha dell'incredibile, dove la sicurezza viene messa totalmente in discussione, guardate i pedoni devono scendere dal marciapiede. Non commento perché si commenta da solo.